Ciao, sono Flavio Cobolli, un nuovo giocatore di Scope Sports. Sono molto grato di far parte di questa nuova famiglia. Potrete seguirmi 24 ore su 24 e potrete seguire ogni singolo gesto prima di una partita, prima di un allenamento, prima di un torneo. Potrete vedere la mia camera, cosa mangio, dove vado, quando sono fuori, quando viaggio e quello che faccio quotidianamente nella mia vita. Ovviamente non tutto perché sennò diventa un film di Netflix, però credo che possa essere molto divertente, quindi accedete al mio fan club e questo è tutto quello che sono.